Il Cannara interrompe la striscia di risultati negativi con lo 0-0 nello scontro diretto con il Cascina che dal canto suo conquistò il settimo punto nelle ultime tre gare e sale al quinto ultimo posto a più tre proprio sul Cannara. Una domenica in salita per Armillè che si ritrova senza peluso e fondi bloccati da problemi muscolari con Mingiano ancora a mezzo servizio. Il tecnico rosso-blu disegna così un 3-5-2 con l'ora in porta. Orazio, Bisceglie e Bococo in difesa, De Sanctis, Mirtollari, Mattia, Porzi e Frustini in mediana con Bazzoff e Diallo in attacco. Bozzi risponde con un 4-3-1-2 che vede Bigeri fra i pali, Puleo, Bernardini, Biagioni e Lici in difesa, Arapi, Malanchi e Carli in mediana con Remorini alle spalle di Mencagli e Cesario. Il Cannara sa che deve provare a fare bottino pieno e parde col piede sul gas ma Orazio sugli sviluppi del traversone di Porzi viene murato dopo due minuti. Occhio però al Cascina con Loria alla garella sulla conclusione dell'ex palchetto Cesario. Il Cannara ci prova con Mattia ma la sua conclusione non impegna più di tanto Bigeri. Quando poi Cesario ci riprova c'è ancora Loria a salvare sempre con i piedi. Prima dell'intervallo Porzi cerca di suonare la sveglia ma la sua sventola è centrale. Quando poi si accende Frustini non c'è nessuno dei suoi a dincornare. Nella ripresa del Cascina la palla buona per l'1-0 ma c'è ancora San Loria a dire no a Cesario. Dall'altra parte Bazzofia serve in mezzo il classico 2005 di Allo e l'anticipo di Puleo vale un gol. Ultimo squillo al 78esimo quando il nuovo entrato Tamponi fa tutto bene tranne la stoccata finale. Finisce 0-0 con il Cannara che continua a crederci sperando nei rientri The Big già dalla prossima sfida contro l'Unipo Mezzia. Altro crocevia nel cammino verso la salvezza.